Nell'illustrare il ricorso davanti al Tribunale numero 4, l'avvocato che guida il team legale dei due marò pugliesi ha denunciato il grave ritardo del caso. Lo scorso gennaio la Corte Suprema aveva ordinato la costituzione di una tribunale speciale che doveva riunirsi su base quotidiana, ma dopo un anno non sono stati neppure presentati i capi di imputazione. Il legale ha anche ricordato che sono passati quasi due anni dall'arresto dei due fucilieri della Marina italiana e che la polizia speciale NIA si è rivolta ad un tribunale diverso da quello che era stato stabilito lo scorso anno per trattare il caso. Il rappresentante del governo ha confermato che esiste un conflitto di opinione all'interno dell'amministrazione, riferendosi alle divergenze emerse tra Ministero degli Esteri e quello degli Interni sull'applicazione della legge antiterrorismo, sua act, da parte della polizia NIA incaricata di condurre le indagini. Di fronte alle pressioni del team legale italiano, l'amministrazione indiana ha detto di avere bisogno di più tempo per conciliare le posizioni. Il giudice ha dunque chiesto al governo di presentarsi il 3 febbraio con una soluzione. Alla seduta erano presenti l'ambasciatore italiano Daniele Mancini e l'ha detto militare il contramiraglio Franco Fabri.